Il punto della situazione è stato chiarito nella Commissione. Non c'è possibilità di convenire ad una giusta convenzione, almeno per adesso, quindi si regoleranno tutte le partite a domanda individuale. Stamattina si è riunita la Commissione Sport del Consiglio Comunale di Napoli per fare il punto insieme con l'assessore allo sport e il direttore generale dell'ente sulle procedure in corso e sulle problematiche relative alla convenzione per l'utilizzo della struttura dello Stadio San Paolo da parte della società sportiva Calcio Napoli, con riguardo sia alle vicende passate sia a quelle del campionato in corso. Un dibattito, un confronto serrato con l'amministrazione comunale rispetto a un periodo nel quale il Consiglio Comunale è stato completamente stromesso dalle vicende e da ciò che è accaduto nel rapporto con la società Calcio Napoli. Io spero che sicuramente riprenda un dialogo, almeno per il futuro, se non immediato, ma per il futuro che possa in qualche modo prevedere una forma di convenzione con la società Calcio Napoli. E' chiaro che al momento non c'è altra strada se non quella di procedere con il pagamento del servizio a domanda individuale e poi da capire in che maniera, nel modo più veloce possibile, si potrà chiudere tutta la partita relativa al 2015-16 dove doveva vigere la convenzione Ponte che non è stata mai sottoscritta dalla società Calcio Napoli e per gli anni a seguire fino a oggi per il quale la società non ha mai in qualche modo corrisposto un euro. A fronte del quale è vero che c'è uno stadio carente e che cade a pezzi, ma per il quale si sta facendo ogni utile sforzo per cercare di dare dignità anche alla tifoseria e alla squadra del Calcio Napoli. Il campo è agibile, quindi non mi sembra che non sia adatto e perfettamente in questo momento praticabile in ogni suo settore. Certo, le condizioni di manutenzione sono quelle che conosciamo tutti, ma sulla inagibilità, che è l'argomento minimo stretto necessario per poter giocare in un campo, questo viene rispettato. Quindi io non vedo alcuna difficoltà. Poi è chiaro che se riusciamo a trovare una forma di accordo convenzionale, si discute anche di questo, ma in assenza di un accordo di convenzione o convenzionale, è chiaro che l'unico modo per poter giocare allo stadio San Paolo è questo qui. È un artefizio amministrativo, è quello che dice e impone il regolamento, non vedo altre soluzioni. Si applica questo famoso fisso che può essere di 5.000 euro, poi una percentuale del 10% di quello che è l'incasso, l'urdo, sottratto poi alcune spese che cadono esclusivamente a carico del Calcio Napoli, come la manutenzione del terreno di gioco. Noi abbiamo le porte aperte, l'amministrazione è un'amministrazione trasparente. Quando il presidente vuole dedersi, le porte di San Giacomo e le porte del secondo piano di Palazzo San Giacomo sono a disposizione della società sportiva.